ma che macchè il programma che non c'è solo del paese dei matti buongiorno a tutti questa è la speciale epifania ma Gino se che è è buono sto vini quanti gradi fai? 14 ora fa 14 esatto bene bene come avete visto abbiamo un po cambiato visto un po il look delle stanze la faccia del nostro Gino anch'io mi sono cambiato un po Gino ah no Gino bravo è moda è moda è ora è ora 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 che bello è ora Gino parliamo indietro bene ma io non so non so un po ma ti che ti sei da parlo non ti parli sì sì dimmi una parola indietro padovan padovan gaina 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 no gallina gaina gaina infatti oggi a macchè la faremo breve ma vi faremo una piccola lezione di dialetto speciale epifania ad esempio epifania indietro come si dice? è mi non so miglia befana ah befana eccolo la ora vado non sa niente siete dottorati e non sa niente eh tutti i studiosi noi siamo studiosi ma Gino ma sei contento cosa che ti ho fatto? no mi fa mai il culo ah ah ecco io ho la carrega stretta e mi sprende la pancia ma mi sprendono anche i denti si vede guarda che faccia lunga che hai bravo Gino ma è ora Gino cosa che ti ho fatto? cosa facciamo? qua mi dice qua mi dice qua è ora captured captured ma te lo devo registrare? eh mi si eh ma ma sei dirmi o che devo petenarmi no? eh so eh scusa quanto è scritto? captured? che vuol dire? eh boh che ne so? non è la mia dieta però eh no e poi c'è frames 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 e messe vuol dire? ah c'è un messenger? esatto che vuol dire? ah ecco eh che ne so? pulito ah ah bene ecco la stessa cronatito e ora Gino che temo? eh non so senti che te comandi qua eh mi non so mica chi senti il scout? il scout comanda? eh ma se ti sento sicuro allora comanda qui da rugby eh non mi non vedo mica non vedo questo beh cantami una canzone eh mi non so mica canzoni eh ma scusa se ti vedi il scout non te canti, sono sempre gli imbriaghi ma che ne so gli imbriaghi che facciamo i festini i festini si chissà vuoi anche cosa che fai nei festini dei scout si cosa vuoi che sia ricordati Gino Gino perché? Gino dobbiamo farla breve questa puntata perché l'ultima volta abbiamo fatta di undici minuti non siamo riusciti a scaricare e siamo restati a questi qua esatto e tutti in bagno praticamente se resta a mesa nel culo ma il minestrone? grande grande il minestrone tutto accioso che devo mandare ah bravo Gino e ora dai facciamo un'altra cosa poi finiamo qua che dopo dove domani andremo a lavorare ma detto potà ci aveta eh? detto potà ci aveta ci aveta ci aveta, ci aveta, quindi bravo 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 e ora dai pronti? ah guarda ci aveta ci avremo e non ne so spero di no eh no eh no 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 Gino ah no e che temo è ora guardiamo il mio mano guarda guarda che bello muzie muzie pazzesco grande ha visto la tecnologia di oggi e la tecnologia tua cosa c'era? la mia tecnologia non vediare soltanto che il muso col caretto ah io ora e via fare io io e adesso quando chi canta i fai io io stesso non cambia niente esatto dai su facciamo le ultime cose allora il nostro motto è Gino Gino no Gino è il motto metti in moto Gino no non in quel senso e chi non siga e viva che scioppa la vesciga e viva bene ci vediamo per la prossima puntata anche stata bella a carnevale a carnevale si facciamo quando che te compi gli anni? eh ma è 21 maggio voi prima dai esatto prima di maio anche Pasqua no? si ma anche prima anche quando c'è che te rompi gli uvi a Pasqua? no sempre 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 bene e ora la prossima puntata speriamo sia presto e allora arrivederci 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 cosa che tu miaggino oggi? miaggino seguo seguo bravo